Pur considerando il Napoli favorito già alla vigilia di questa partita rispetto alla Lazio per una condizione fisica, mentale e tecnica superiore rispetto ai Bianco Celesti almeno secondo la mia opinione non mi aspettavo un dominio così clamoroso ed è vero che comunque la Lazio ha i suoi episodi su cui recriminare primo fra tutti il gol che ha sbloccato la gara sul rigore che possiamo dire dubbio ma proprio al limite dell'inesistente se vogliamo poi per carità arrivati ad una partita che si sta concludendo sul 5-2 lamentarsi di un gol è un po' assurdo perché giustamente poi la partita va giocata per tutti i restanti minuti però sicuramente l'episodio che ha sbloccato la gara è quanto mai particolare perché addirittura poi viene dopo un possibile rigore che si poteva dare alla Lazio quindi si può dire che almeno all'inizio è stata una questione di episodi e su questo non penso che i Laziali non si possano lamentare nel senso che è giusto lamentarsi di questo episodio però subito dopo tu vai a prendere il 2-0 e la partita cambia perché è vero che è una botta importante a livello mentale però si tratta dei primi minuti cioè intanto qua rischi attenzione no niente stava per segnare il 5-3 cioè tu comunque a livello mentale devi restare sul pezzo perché comunque ci sono altri 85-84 minuti per poter rimettere la partita in gioco e la Lazio invece si è un po' sfaldata ha un po' perso la propria sicurezza ed ha preso subito il 2-0 tra l'altro piccola nota sui gol quasi tutti spettacolari veramente quello di Ossiman, quello di Mertens, quello di Insigne Reina però si può dire che oggi è tornato con la maglia del Napoli possiamo dirlo oppure esagero sicuramente è un buon portiere per l'amor di Dio però sulla maggior parte di questi gol è secondo me chiaramente colpevole pur dando comunque merito all'intanto qua rischia di segnare niente pur comunque dando merito ai giocatori che hanno fatto dei tiri fantastici mettendo la palla all'incroso e veramente facendo delle conclusioni importanti però Reina diciamo che non è il principale colpevole ma non ha fatto neanche chissà che per evitare i gol ecco diciamola così anche il gol di Ossiman soprattutto l'ho visto veramente impotente poi è vero che il tiro era potentissimo però non l'ho proprio visto sul pezzo per provare quantomeno a deviare il tiro la sconfitta della Lazio sicuramente è meritata sotto questo punto di vista ma non tanto per colpe sue quanto più per meriti del Napoli secondo me perché la Lazio comunque dopo il 4-0 che aveva virtualmente chiuso la partita ha reagito comunque ho visto una reazione di orgoglio portata avanti con il gol del 4-1 e del 4-2 tra l'altro 4-2 punizione fantastica di Milinkovic che sembrava un tiro proprio piano lento 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 ed è andato all'incrocio veramente quei tiri che tu pensi già dal principio questo non entrerà mai e invece è entrato proprio nel posto dove il portiere non poteva veramente fare nulla dopo il Napoli avendo comunque la forza mentale di non subire più gol e comunque di voler portare i tre punti a casa ha segnato il 5-2 e ha chiuso di fatto la partita di episodi particolari a parte il rigore dell'1-0 non ce ne sono ma comunque l'arbitragio secondo me non è stato dei migliori ho visto molti laziali lamentarsi appunto di Di Bello e gli posso dire benvenuti nel club anti Di Bello visto che lui per quanto ovviamente non abbia sempre fatto male contro di noi ma la maggior parte delle volte ci ha fatto dannare ricordo l'ultima volta che sono stato all'Olimpico per Roma-Torino c'era lui ad arbitrare in quel caso i laziali godevano del suo arbitraggio dicendo ah vi è attaccato all'arbitro e oggi è successa la stessa cosa non lo dico certo per attaccare nessuno ci mancherebbe altro so bene che quando arrivano questi episodi indipendentemente dall'avversario e dall'arbitro comunque la lamentela sorge spontanea il che è anche normale perché comunque dopo 5 minuti su una situazione in cui tu potevi addirittura andare in vantaggio segnalo loro capisco il rossicamento cioè lo capisco bene però una squadra come la Lazio doveva reagire soprattutto doveva fare meno errori il problema secondo me è che è mancata principalmente con i suoi giocatori chiave immobile assegnato per carità però soprattutto Luis Alberto e più di tutti Lucas Leiva secondo me erano visibilmente stanchi non sto mettendo in dubbio le loro qualità tecniche per carità però è evidente che dovevano un po' tirare il fiato e che stavano facendo più della loro leale condizione fisica se tu già sei una rosa con qualche lacuna qui e là e in più i giocatori chiave che hai sono stanchi e non riescono a dare il 100% e soprattutto se a questo aggiungiamo una condizione dei padroni di casa letteralmente devastante ecco che confezioniamo il risultato di questa sera quindi i laziali non devono uscire da questa partita secondo me demoralizzati perché la lotta per la Champions era comunque difficile anche prima di questa partita ma comunque la Lazio in questa situazione a livello mentale e a livello fisico poteva difficilmente fare di meglio lo dico perché comunque secondo me dopo questi tre punti bisogna fare molti più complimenti al Napoli che insulti tra virgolette alla Lazio perché il Napoli ha fatto davvero una grande partita non tanto sugli errori avversari quanto più andando avanti con le proprie giocate facendo belle manovre belle azioni gol spettacolari quindi è questo quello che voglio cercare di farvi capire che nonostante il grande passivo credo che sia stato proprio merito del Napoli se ciò è avvenuto perché hanno giocato a mille all'ora non si sono risparmiati mai e credetemi sulla parola lo dico adesso e con il rischio di essere frainteso anche di essere smentito anche se ovviamente siamo a sei giornate dalla fine quindi si può parlare ben poco per me il Napoli senza tutti i problemi fisici che ha avuto finora mettiamo un po' se avesse avuto la condizione fisica dell'Inter per me avrebbe lottato per lo scudetto assolutamente cioè in un anno in cui la Juve non è più la Juve in cui il Milan inizia bene poi stenta un po' e l'unica che corre appunto l'Inter se il Napoli avesse avuto costantemente Insigne, Mertens, Ossiman, Lozano Zielinski, Manolas Kulibari e tutti quanti avrebbe lottato per lo scudetto a parer mio poi ovviamente non si può piangere sull'arte versato adesso è inutile dirlo perché ormai lo scudetto è cosa andata però è per farvi capire quanto può essere decisivo per un percorso in campionato la condizione fisica avere i giocatori a disposizione riuscire a metterli con continuità riuscire ad avere dei meccanismi ben collaudati si vede cioè guardate non è una coincidenza nell'ultimo mese mese e mezzo il Napoli ha recuperato tutti gli infortuni magicamente pochissimi giocatori fuori quelli che ci stanno sono in forma qual è il risultato? che stanno vincendo quasi sempre e questa è la differenza perché prima di tutto per me per poter vincere un campionato e per poterlo per poter lottare fino alla fine devi avere una squadra forte devi essere stata costruita bene cioè non solo con nomi ma anche costruita a modo devi avere un allenatore capace devi avere un po' di culo sottolineiamolo e soprattutto non devi avere infortuni gli infortuni sono il male per ogni squadra non è una scusante non è che uno trova le scuse dicendo eh ci stava fuori mezza squadra perché è così avere tanti giocatori fuori o come nel caso della Lazio questa sera averceli a mezzo servizio è un problema perché comunque non riesce a dare la manovra di gioco e a meno che non ti chiami Barcellona e neanche tanto considerando gli ultimi tempi che ha una rosa da titolari e una rosa di riserve importanti è normale che quando mancano quei giocatori chiave le cose cambiano perché non è che Roma-Napoli Napoli un po' di più però Roma e Lazio ad esempio non è che hanno questa gran disponibilità da poter fare a meno dei propri giocatori più rappresentativi perché tanto è uguale no non è uguale per niente se questi giocatori non ci sono o non stanno bene si sente la differenza e oggi per me è stato così cioè il Napoli ha fatto la sua partita non ha sbagliato secondo me niente la Lazio considerando la condizione fisica ha fatto il suo cioè almeno ci ha provato e diciamo che anche gli episodi singoli se vogliamo essere precise non sono andati dalla sua parte io dico la sincera verità tra le due speravo vincesse il Napoli ma mi pare ovvio cioè io non penso che un Laziale al posto nostro avrebbe tifato per la Roma cioè alla fine a me cambia poco lo dico relativamente cioè a me non importa però se la Lazio non torna in Champions e non prende la liquidità che porta la qualificazione ai gironi della maggiore competizione europea a me non dispiace comunque secondo me rimarranno quelle quattro e non penso che il Napoli potrebbe arrivarci anche se l'Atalanta deve stare attenta perché pur ritenendola più forte non deve fare passi pazzi come l'ha fatto oggi perché oggi poteva vincere tranquillamente e non l'ha fatto per propri errori secondo me per meriti nostri ma principalmente per colpe loro devono stare attenti perché il Napoli se corre così può essere pericoloso poi adesso non so come sono andati i sconti diretti credo che l'Atalanta sia in vantaggio però vedremo un po' di sicuro la lotta Champions sta diventando sempre più accattivante anche per i passi falsi vari di Milan e Juve che la stanno rendendo ancora più entusiasmante si può dire che quest'anno una delle poche lotte che non è stata entusiasmante come gli anni passati della Juve era quella per lo Scudetto che all'inizio sembrava tanto importante e si è conclusa e si sta concludendo in una maniera a dir poco normale cioè comunque scontata ecco non volevo dire non veniva al termine scontata un campionato scontato per quel ruolo vedremo un po' invece per la zona Champions chi si qualificherà e chi riuscirà ad arrivare primo tra queste squadre alla fine del campionato detto questo ragazzi allora vi ricordo che alle 23 e cioè tra poco sarò online sul canale dei fuorigioco per parlare un po' di questa partita di Roma-Atalanta in giro giornale dell'ultima giornata di campionato un saluto sempre comunque forse Roma e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi Ciao a tutti